ciao a tutte e bentornate sul mio canale oggi video un po diverso dal solito andremo a mostrarvi come abbiamo realizzato il buco sulla scrivania per andare ad inserirci l'aspiratore nel mio caso l'aspiratore in questione è il max ultimate 4 plus acquistato su matryoshka maggiori informazioni però riguardanti l'aspiratore vi lascio giù nell'info box il video in cui andavo a spacchettarlo dove vi parlo sia delle spedizioni di questo sito che magari anche del costo dell'aspiratore nel mentre state vedendo il momento in cui siamo andati a ritagliare questo pezzo di carta arriva in dotazione con le varie istruzioni dell'aspiratore successivamente abbiamo poi preso le misure sul tavolo affinché l'aspiratore risultasse il più centrale possibile questo per una questione di comodità mia personale c'è chi decide di spostarlo leggermente più verso la cliente chi più verso se stessa io ho preferito metterlo proprio centrale ci tenevo ad aggiungere un'ultimissima cosa riguardo al tavolo se qualcuno se lo stesse chiedendo questo non è un tavolo reperibile in commercio ma è stato realizzato dal mio ragazzo è sempre lui che in questo video si sta anche occupando della realizzazione del buco per andare ad inserire l'aspiratore se vi interessa però sapere da dove abbiamo acquistato il materiale necessario per realizzarlo fatemelo pure sapere nei commenti che io vi lascerò tutte le varie indicazioni per il momento credo di non avere altro da aggiungere vi lascio con la continuazione vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao ciao ciao